C'è Vitale sul punto di battuta per fare due il campionato. Ricordiamo sempre che in Serie B non c'è il VAR a prescindere. Calcio di rigore per la Salernitana. Pronto ad andare, Vitale, Fiorillo tocca ma non basta. È 2-0 per la Salernitana, il buono dell'Arechi. 2-0 per la squadra di Gregucci. Dal possibile 1-1 al 2-0 per la Salernitana. Il calcio è anche questo, fatto di dettagli, fatto di episodi. Ci sarà sicuramente qualche polemica in settimana ma la sensazione è che il fallo di Scognamiglia ci fosse e anche il calcio di rigore ci potesse tranquillamente stare. Scuote la testa, bebe i pillon, scuote la rete invece. Vigi Vitale e sono due per la Salernitana. Sentiamo come l'hanno presa a bordo campo, Pietro. È decisamente non bene, la banchina del Pescara protesta sulla dinamica complessiva da parte di Pilon e dei suoi. È stato detto alla quaterna arbitrale ancora, ci dovete spiegare chi ha fatto fallo prima e poi date il rigore. Puoi dirglielo tu, se vuoi.